hanno come tutta la mafia fino a perdere la vita la mafia però esiste ancora gli italiani la combattono o no la mafia? diciamo tutti antimafiosi quando ci scappa il morto ora ringraziando il cielo il morto non ci scappa e si fa più fatica a coinvolgerli di più poi l'ultima puntata era sulla strage di Capaci quindi ho visto tutte le immagini di repertorio ho visto i funerari di Falcone e dici ma dove è quell'incazzatura porca miseria cioè la scommessa e come lei dove era quando è morto Falcone ai funerali? io ero là io riuscì a entrare dentro la chiesa di San Domenico ed è la cosa che per me cioè il 92 era la fine della scuola per me l'anno della maturità che per me è stato un incubo la scuola e per una persona se io fossi stato di Pescara probabilmente il 92 era l'anno della liberazione dalla scuola per me non c'è più la maturità c'è la strage di Capaci e la strage di Borsellino ma a proposito Giorgia Miloni ha detto che la morte di Borsellino l'ha convinta a fare politica sì ed è io ci credo mi ricordo che me lo disse quando l'intervistavo la prima volta io sono profondamente convinto però io le chiedo come fa una persona io sono sicuro che sia così come fai a andare a Catania porca di una vacca e dire che le tasse sono un pizzo di Stato come fai a dirlo? lo so ma tu proprio per coerenza tu sai quanto il pizzo sia per noi siciliani in particolare una parola che dentro c'è del dolore del dramma, dell'ingiustizia come ti viene in mente di dire che le tasse sono un pizzo dello Stato a Catania ma ricordati della ragazzina quando Giorgio Miloni si sederà su questa sedia io le prometto che glielo chiederò personalmente una domanda perché sai benissimo siccome sa benissimo cos'è la mafia perché l'ha seguita io ripeto sono convinto di tutto ciò non poteva non può dire una cosa del genere a proposito di mafia vediamo un brano dal suo film La mafia uccide solo d'estate era evidente che il presidente Giulio Andreotti stesse parlando con me contrariamente a mio padre lui capì le mie difficoltà e decise così di aiutarmi Ragazzi Ma come ti sei vestito? Il popolo sbaglia spesso tranne in cabina elettorale Senta, ancora oggi Andreotti nonostante una sentenza di assoluzione e prescrizione in cui vengono definiti provati i suoi amichevoli rapporti con i boss viene da alcuni considerato uno statista a lei che effetto fa? Stai toccando mi alzerò perché qualcosa mi farà portare in alto ci sono degli argomenti che mi stai toccando tutti gli argomenti che mi fanno più incazzare quindi io mi rilasserò il problema è che io posso capire che tu mi dica guarda io non credo che Andreotti fosse colluso la mafia parliamone perché è molto complessa però qui il problema è che si nega un pezzo di carta che è la sentenza allora io non la faccio con Andreotti non la faccio una questione penale io la faccio una questione morale c'è scritto che lui aveva relazione amichevole in diretta con esponenti mafiosi di spicco punto perché la lotta è una questione morale prima che penale e quindi il grande statista era colluso con la mafia poi contro il comunismo poi parliamone ma qui si deve partire da un fatto reale cioè che lui era colluso con la mafia e fa impressione lo so perché pensare che il sette volte Presidente del Consiglio 25 non so quante volte il Ministro della Repubblica era colluso con la mafia perché 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 c'era una frase di Borsellino che diceva mafia e politica sono due poteri che controllano lo stesso territorio o si fanno la guerra o si mettono d'accordo ecco ma a parte Andreotti gli italiani o meglio l'Italia si è messa d'accordo con la mafia ma il problema è che la mafia non è mai stata considerata un'organizzazione criminale da combattere è sempre stata considerata un pezzo della società utile per la Repubblica Italiana ci ho fatto un film lo sbarco gli americani fanno quello che fanno sempre arrivano in un territorio che è il nemico del mio nemico e il mio amico prima era il fascismo e poi il comunismo quindi prima era contro il fascismo la mafia la mafia ne frega niente e poi è diventato contro il comunismo Giovanni Falcone lo diceva quindi è una tesi storica avallata anche da gente che ne sapeva quindi è sempre avuto un ruolo la mafia il problema è che quando tu vai nelle scuole e dici non se vi rubano il motorino non andate dal mafioso a pagare il cavallo di ritorno di cavallo di ritorno cioè io pago il mafioso e mi ridà il motorino perché state finanziando riconoscendo il loro potere finanziando l'organizzazione criminale è quello che dice sì ma chi ci va abbiamo trattato per ecco ma appunto che effetto le ha fatto vedere la famosa sentenza sulla cosiddetta trattativa stato mafia in cui vengono condannati i mafiosi e assolti gli uomini delle istituzioni che tra l'altro questi uomini delle istituzioni avevano detto noi siamo andati da Ciancimino e abbiamo detto cos'è questa cosa muro contro muro e uno si aspetta beh sì lo stato e la mafia combattono una guerra muro contro muro io è la prima volta in vita mia in cui quando vanno invitato dopo quella sentenza ho detto ma io che ci vado a fare cioè perché io dico cos'è ci vado a dire ai ragazzi non pagatevi il motorino e quello dice ci vanno i carabinieri abbiamo trattato per cose più grosse perché la frase cos'è questa guerra muro contro muro è una cosa che non si può sentire certo e questo allora stando alla mafia è Giovanni Brusca Giovanni Brusca l'uomo che ha schiacciato il telecomando della strage dei capaci ma anche l'uomo che ha ordinato l'uccisione e lo sceglimento dell'acido del piccolo di Matteo lei ha detto una cosa che mi interessava lei ha detto che è una cosa beffarda vedere oggi Brusca fuori in base a una legge voluta da Falcone sì nel senso che tecnicamente credo che sia andata così nel senso che noi dal punto di vista militare noi abbiamo sconfitto la mafia di Totorina grazie a quella legge là poi grazie anche a Brusca che ha parlato in centinaia di amicini poi che Brusca non l'abbia fatto proprio perché ha sentito ha capito di aver sbagliato nessuno ne dubita però purtroppo è andata così e anche le briade rose insomma è un metodo che funziona ma ti fa girare le basi